La banca Montepruno nuovamente al fianco della squadra di basket diesel tecnica Sala Consilina. Presso la concessionaria autosala d'Atena Lucana, nei giorni scorsi c'è stata la presentazione ufficiale al pubblico e ai tifosi del roster della squadra impegnata per questa nuova stagione nel campionato interregionale di Serie B. Il rinnovato progetto sportivo fortemente voluto dalla famiglia Spolzino e realizzato grazie all'impegno della presidente Simona Sica, ha regalato tante soddisfazioni agli appassionati di sport del territorio e un'ottima visibilità al Vallo di Diano in questi anni. Alla serata erano presenti Michele Spolzino e Antonio Caliendo, presidente del Comitato Regionale Campania Federazione Italia Basket e c'era la BCC Montepruno. Anche per quest'anno infatti si è rinnovato il legame con l'Istituto di Credito Cooperativo che non ha fatto mancare la sua vicinanza e la sua presenza durante la presentazione. Il supporto nasce per dare sempre più slancio a questa iniziativa associativa che punta a valorizzare il territorio, lo sport e i giovani, dicono dalla banca. Durante la presentazione in rappresentanza è intervenuto il vice direttore generale Cono Federico, il quale ha voluto sottolineare l'impegno dell'Istituto di Credito in queste azioni che puntano a fare rete sul territorio, insieme a tanti amici imprenditori della banca che credono nello sport, nei suoi valori e nella possibilità di creare insieme una sinergia che possa portare ad una sempre più intensa valorizzazione del territorio del Vallo di Diano all'interno dei contesti nazionali. Un grande in bocca al lupo e per la stagione sportiva 2023-2024 è stato fatto alla squadra che si appresta a iniziare il campionato. Per la banca, insieme al vice direttore generale Cono Federico, erano presenti il responsabile della segreteria di direzione Antonio Mastrandrea e il preposto della filiale di Sala Consilina Margherita Vannata.